ciao a tutti ragazzi e benvenuti su garmin italia garmin è sempre stata al top del mercato con la sua tecnologia nel settore dei dispositivi dedicati all'outdoor allo sport e al fitness oggi è riuscita ad estendere l'utilizzo di questa tecnologia per uno scopo molto importante quello di farsi portavoce della sicurezza in bicicletta varia bike radar è il primo e unico dispositivo al mondo per il rilevamento di auto in avvicinamento varia radar infatti consente di pedalare in sicurezza avvisando i ciclisti dei veicoli che si avvicinano da dietro fino a una distanza di 140 metri usato e testato da ciclisti professionisti ha riscosso un grosso successo ed interesse il ciclismo su strada lo dice la parola stessa si pratica su strade trafficate e il concetto di sicurezza deve essere sempre più importante ed è per questo motivo che ho montato sulla mia bicicletta il varia radar è un congegno molto importante abbastanza semplice che mi permette di capire se dietro di me ci sono delle auto o comunque dei mezzi in movimento il funzionamento di bike radar è molto semplice ed intuitivo una volta acceso il radar le luci a led integrate iniziano a lampeggiare accendendo il display la connessione avviene automaticamente e il dispositivo è pronto a funzionare la lettura del display è immediata nella parte alta è presente un led colorato che rappresenta la vostra posizione due linee che percorrono tutta la lunghezza dello schermo rappresentano invece la strada dietro di voi grazie alla tecnologia utilizzata il radar riesce a riconoscere i veicoli che sopraggiungono segnalandovi la loro presenza illuminando il led di avviso sul display di arancione e accendendo un led bianco a rappresentazione del veicolo rilevato sta arrivando una macchina quindi non ho bisogno di voltarmi eccola qua dietro di me è rino però durante l'avvicinamento il led bianco si avvicinerà alla vostra posizione dandovi l'esatta consapevolezza del sopraggiungere di un veicolo e della sua velocità senza doversi girare a controllare il led di segnalazione passerà da arancione a rosso nel momento in cui il veicolo sarà in prossimità di sorpassarvi inoltre come ulteriore misura di sicurezza per i veicoli che sopraggiungono il radar aumenterà l'intensità luminosa dei led lampeggianti o fissi a vostra scelta garantendo di essere listi anche in condizioni di poca luce quando tutti e otto i led sono accesi in rosso sembra quasi un semaforo focalizzano la tensione da automobilista e quindi anche questo un bel vantaggio altra cosa molto utile è che a volte cosa succede se ci sono delle imperfezioni sull'asfalto sono portato a evitarle e quindi avendo anche degli scarti improvvisi se mi rendo conto che invece di me c'è una vettura e anche se c'è una buca o se c'è un'imperfezione lo scarto non lo faccio perché coro il rischio di farmi investire e quindi anche per questo motivo in varia radar è molto molto utile. L'alto livello tecnologico di Bike Radar consente di rilevare fino a otto veicoli contemporaneamente rappresentando non solo la loro modalità di avvicinamento ma anche rappresentando la distanza tra i veicoli stessi. Funziona perfettamente anche se dietro di voi sono presenti altri ciclisti, varia bike radar è in grado di riconoscere e distinguere un veicolo in avvicinamento evitando i ciclisti nello stesso raggio d'azione. Nella confezione completa troviamo il radar con luce led integrate, staffe per il posizionamento e il piccolo display da manubrio dove visionare le informazioni. È anche possibile utilizzare solo il radar nel caso si sia già in possesso di un dispositivo Garmin Edge compatibile come l'Edge 1000, 520, 25 o Explore. Una volta connesso sarà possibile visionare le stesse informazioni sullo schermo in overlay su qualsiasi schermata stiate utilizzando. Per noi ciclisti la sicurezza è fondamentale ed è importante che un'azienda come la Garmin non solo in vesta sulle prestazioni ma soprattutto sulla sicurezza. Ancora una volta Garmin è riuscita a stupire portando innovazione ed evoluzione, fornendo uno strumento che vi permetterà di poter praticare il vostro sport con maggiore serenità e sicurezza. Varia Bike Radar Grazie a tutti i nostri spettatori